Sapevamo che era una partita molto difficile, giocata su un campo di una squadra che aveva grandissime motivazioni, però come ho detto sempre noi in questo finale di stagione dobbiamo avere motivazioni grandissime, perché ogni partita per noi deve diventare, dobbiamo cercare di esprimere tutto quello che abbiamo dentro, dobbiamo cercare di fare tutti i miglioramenti che possiamo fare da qui alla fine, quindi anche per noi il discorso motivazione deve essere sempre altissimo e deve essere la sfida da qui alla fine del campionato. La partita si è incanalata bene, poi abbiamo avuto anche qualche opportunità per raddoppiare e poi ci sono state queste due situazioni del cartellino rosso, lì siamo stati bravi a non disunirci, a sopportare bene la pressione della squadra avversaria. Poi abbiamo trovato il gol, prima del gol abbiamo creato secondo me due occasioni clamorose, in quelle opportunità lì in una partita del genere è logico dobbiamo diventare bravi a fare gol, però poi l'abbiamo trovato, alla fine ovviamente loro hanno cercato con queste palle lunghe il gol, però siamo riusciti a difenderci bene, portiamo a casa un risultato enorme, positivo, però da questo risultato ripeto deve nascere sempre più maggiore convinzione, maggior voglia di affrontare questo finale di stagione nella maniera più decisiva, decisa e determinata possibile.